Per chi si ricorda Adele, Rose e Rubicon, da vedere la fotografia che è apparsa sul suo Facebook è decisamente stato sconvolgente. Eh già, la cantante ha pubblicato in occasione della giornata mondiale dell'acqua una fotografia che la ritrae con le occhiaie, un po' smunta, con la pelle, con la carnagione scusate, molto pallida. I fan quindi si sono subito preoccupati che si sia messa a dieta o ancora peggio, che stia poco bene? La cantante ha sempre detto di amarsi ed accettarsi anche con l'erotodità e chili di troppo, che sia forse alla fin fine capitolata di fronte allo stereotipo di bellezza che ci viene sempre proposto? Intanto si accende il giallo sull'uscita del prossimo album. Il 15 luglio l'account dei World Music Awards aveva twittato la notizia che entro la fine dell'anno sarebbe uscito il nuovo album di Adele intitolato 25. Ma la casa discografica della cantante, la XL Recordings, ha smentito categoricamente la notizia.